Ciao a tutti ragazzi, io sono Silvia Mingoglia oggi siamo in un nuovo video e oggi farò il mio necrotin allora ragazzi, sono già messa il pigiama ho fatto tutto adesso facciamo una piccola skin care e sono tornata a una scena di mia nonna tutto sono le 22.03 e niente ora inizierò un pochino a a farmi la mia skin care vi faccio vedere la prima cosa che dovete fare per la vostra skin care anche se non vi siete truccate il latte detergente fa sempre bene quindi prima cosa, il latte detergente fatto? bene scrub finito tonico ok, ora quando avrete finito, cremina la spalmo io cremina spalmata interfinita mi sono già messo il pigiama allora io diciamo che la sera mi dedico soprattutto a scrivere e a leggere prima di andare a letto quando vado a letto poi mi dedico alla tv quindi tv, cose e la sera mi faccio questa specie di chignon fatto da sola che ora vi faccio vedere come si fa perché lo devo anche rifare bene quindi adesso dovremmo scrivere un pochino perché dovrei ricopiare degli appunti di una cosa del canale a dopo iniziamo, prendiamo tutti i gadget e scriviamo adesso vi spiego dovrei ricopiare questi appunti qui del canale ho poco tempo del canale sulla mia agendina vi faccio sapere dopo ecco qui, ho copiato tutto una volta che ci siamo dedicati alla scrittura possiamo dedicarci alla tv quindi fichiamoci nel letto subito ad entrare nel letto ho una campagna il tablet notte